Sono Michele Martucci, ho preso parte a molti progetti portati avanti dal centro di studi Sereno Regis in quanto tirocinante e aderisco all'iniziativa Ci vediamo da te. Oggi vi voglio raccontare una storia che avremmo dovuto inserire nel programma del progetto di gemellaggio Torino Beirut in cui aiutiamo i bambini e i ragazzi ad avvicinarsi alla realtà che vivono anzi molte famiglie, ragazzi, uomini, donne, rifugiati e questa storia parla di una bambina felice che ad un certo punto della sua vita sento un grosso buco dentro di sé e prova a riempirlo attraverso cose materiali, cibo, persone, ma non riesce perché si rende conto che questo buco non è colmabile e sembra quasi immateriale. Allora da un certo punto scopre l'immaginazione e attraverso l'immaginazione riesce non a colmare il buco ma a stringerlo sempre di più fino a quando ci riesce a convivere e scopre anche che non è l'unica a crearsi dei nuovi mondi e una nuova realtà attraverso l'immaginazione a causa di un buco che ha dentro e quindi finalmente riesce a vivere felice in armonia con se stessa e con gli altri. Questa favola mi sembra fiaba, mi sembra importante, è un grande punto di partenza per capire che tutti dai più grandi ai più piccoli abbiamo dei buchi, dei grossi vuoti emotivi per varie ragioni, per un bambino che scappa da una guerra può essere aver lasciato una casa, i genitori, la famiglia perché non sempre riescono a stare uniti, lasciare le proprie abitudini, le cose che ami e questo a volte può essere veramente difficile da riempire, ma abbiamo una grandissima potenzialità che può essere l'immaginazione, l'arte, tante cose belle che possono farci dimenticare tutte queste cose brutte che succedono e che alla fine ci rendono tutti uguali perché siamo tutti amici e fratelli alla fine nelle cose belle e nelle cose brutte ed è per questo che vi ho raccontato questa storia per farvi capire che siamo tutti veramente tanto vicini anche se le realtà che viviamo sono diverse.